ciao a tutti in questo video andremo a creare la terza mano praticamente è un aiuto diciamo perché ad esempio se noi dobbiamo almeno vado a creare qualcosa che mi serve a me nel caso io le posso andare un filo in questo punto ho già una mano per tenere dritto l'interruttore una mano per il filo mi serve ancora una mano per saldare però se vado a saldare mi serve un'altra mano per lo stagno allora andiamo a creare qualcosa che ci venga in aiuto useremo quest'asse come base poi ho comprato in negozio questa spazzola per pulire i calorifri credo che sia prezzo di 80 centesimi ne ho prese due 1 euro e 60 una spesa ho comprato due pinzette che andiamo ad aprire non avevo codice due pinzettine pelle piccoline e una lente di ingrandimento pagata un euro di 50 anche due mollettine e due mollettine e due pinzette pagate un euro diciamo che ho speso veramente andiamo ad aprire la lente ok bellamente comunque funziona ok iniziamo a prendere un bastoncino rimuoviamo il tappo che può essere un bellissimo pennellino mettiamo in parte però non ci serve vediamo se con una pinza allora pinza abbiamo una pinza un po' appagato vediamo se si stacca dal manico ok anche il manimo lo rimuoviamo che tanto non ci serve ora la mia idea siccome si piega ma è un po' troppo rigida la mia idea era quella di andare a aprire vediamo se si 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 apre vediamo si 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 sta aprendo ci vuole un po' di pazienza ora ci serve vediamo se si sta prendo bene e così l'apriamo tutta ora che abbiamo tutti e due i nostri ferretti andiamo a creare due annellini per il fissaggio sull'asse ok ecco fatto uno non so se si vede un annellino e anche l'altro ce l'ho fatto ora prendiamo la nostra asse ora prendo una vite e andiamo a vitare sulla nostra asse andiamo a fissare la seconda ok andiamo i nostri cavetti perfetto che si piegano come vogliamo ora proviamo a prendere una pinza tiriamo via la plastica che tanto ci serve andiamo a creare due annellini anche sopra per fissare le pinzette chi è il fondatore di facebook? luina rolla luina rolla luina rolla della rolla della rolla della rolla della rolla della rolla ok una qual è? il nome il cognome il cognome no youtuber faijay no rio 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 ora prendiamo la nostra pinzetta andiamo il prodotto di facebook eppure pensato in salle eee stiamo con tre giuste e quattro sbagliati in questo momento tre giuste e quattro sbagliati no tre giuste e quattro sbagliati no no a questo punto con sei il primo perchè sei il primo salite dietro a fine anno regaleremo un premio a la persona al di aroi social della stagione quindi tutti i già posizionati dentro ciò lo stiamo utilizzando tantissimo eh potrebbe essere un 424 eh se accanto c'è questo che era spazio bufa lei è un calcolatore ma c'è una riprellina va bene va bene iscrivetevi al social eee brosiliano fai uh eeeh 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 una piccadino 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 eeeh 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 andiamo a girarlo Ora andiamo a registrare i due pinzette, evitiamo di una pinza perché è data il piccolino, una falsa, spingiamo la seconda, spingiamola bene, ora spingiamo la prima patina e vediamo lo stesso contenuto, eliminiamo la punta e il manico, andiamo a aprirla per eliminare le due battesili, per dividerle, però facciamo un altro paletto che abbiamo staccato insieme, andiamo a creare un anellino per pucciarlo all'asce, andiamo a pucciarlo all'asce, spingiamo bene, in questo paletto coleremo la nostra lente di ingrandimento, ora la prendiamo, io lo faccio per adesso con un bel nastro isolante, ecco il progetto ultimato, come potete vedere c'è anche dentro una lente di ingrandimento, questo è il clavo, io ora ho le mani libere, faccio prendere in mano le mie saldature, vado a saldare il filo, tac, prendo il filo, io vado a saldare il filo, dangers, nel cemperль per tutelare, ciao!!! tutta월i, sicure Sebка, mi vuoi, sembra lo annelle, mi vuoi, sembra lui,照ğlu, grazie bellissimo!